Una voce squillante, nitida, un'elloquenza formidabile, una battaglia continua contro il potere e la prepotenza e l'arroganza del potere. In queste circostanze fare ricordi personali sembrava un po' di cattivo gusto, però ho avuto il piacere di conoscere la ragazza sarda appena sbarcata, anzi proprio che non era ancora sbarcata perché aveva scritto un blog che mi aveva molto colpito. Era stata una fortuna avere l'occasione di conoscere questa ragazza dal talento così puro, così selvaggio, così indomabile. Era anche difficile averci a che fare, fu un combattimento in realtà quel nostro incontro, però ne è nato un film di cui sono molto fiero e adesso sono qui per salutarla e ringraziarla a nome di tutta una comunità molto ampia che è quella degli italiani.